In Portugal noi speriamo di andare in qualche mondo a riuscire a fare queste domande, ma in ogni tanto la faccio. C'è anche rivendere il gruppo di persone, di noi mantenere proprio questo spazio, perché veramente lo spazio di libertà. Si, infatti, non avete delle altre cose. C'è un lavoro più positivo. C'è un lavoro più positivo. C'è un lavoro più spesso. C'è un lavoro più spesso. Ci sono scantolati. Questo, il lavoro, oppure l'idea. E se questa cosa qua ti riesci a fare questa cosa, se tu ti aspetta, se tu ti aspetta, se tu ti aspetta. No. Non viene sempre tutto bene. Anche il fatto di regalarlo ti capo la libertà. Ma lì, mi rostrata, mi stanno scontando. Non so, non so. Non so, non so. Non so, non so. Non so, non so, non so. Però, in minima, in tempaggio. E' già tantissimo. Però, non so, non so. Non so. Non so, non so. Non so. Non so, non so. Non so. Sì, credo che sia, magari, difficile. Per esempio, crowdfunding, diciamo, abbastanza. Però... Un po' presso il mondo. Certo. No, vabbè, ma certo. Il sistema crowdfunding, non so, non so. Non so, non so. Non so. Praticamente, ti metti qui su un sito, e dici, mi serve questa cifra forte. Ah. molto. E in cambio, diciamo, di contributo, tu puoi dare, che so, per come, in questo caso, un buon libro, un buon libro, una bolsita, una sbilletta, una sbilletta. Grazie.